Buongiorno cari amici di LRM, bentornati per una nuova pillola di memoria con Renato Vai. Buongiorno. Lo scorso sabato, 6 marzo, abbiamo ricordato tutti insieme nell'area Giovanni Palatucci i giusti tra le nazioni. I giusti sono tutti coloro che, come abbiamo già spiegato in altre puntate, durante periodi di difficoltà si sono adoperati per difendere, per tutelare gli altri. Ci sono però stati anche dei giusti durante la prima guerra mondiale del 15-18 e noi oggi vogliamo ricordare una donna giusta tra le nazioni, a parer nostro, che viene ricordata ad Alba con una via a lei intitolata Anna Rosso. Anna Rosso era una infermiera volontaria che prestò servizio ai malati di Spagnola durante il primo conflitto mondiale. E quindi ci è sembrato interessante riporre l'attenzione, cioè riporre l'attenzione su questa appunto figura di una donna che si adoperò per gli altri, soprattutto nella giornata delle donne. Ecco, brava Giulio. Vedete che la memoria è importante per vivere. Se non scaviamo nella memoria non sappiamo né di dove arriviamo né dove andiamo. Giulio ha trovato Anna Rosso, che è una via piccola da Piazza San Paolo, è stata fatta dopo il 25 ed era veramente una infermiera, allora si chiamavano samaritane, volontarie, che sollevò molte piaghe e soprattutto dei militari nemmeno italiani che erano in Alba. Parliamo delle epidemie, perché oggi ci stupiamo delle epidemie. Io ho aperto gli occhi, sono del 1939, ma mi ricordo che nell'immediato dopo guerra, quando arrivarono gli americari, la prima epidemia che dibellarono, parlo di Alba, parlo di Alba dell'Albese, fu il tifo. La prima cosa, arrivaronoci dietro delle pastiglie piccolissime, delle compresse e a tutti, le fecero mangiare a tutti, soprattutto noi ragazzi poveri ce le fecero mangiare, perché c'era il tifo, il tifo petechiale, il tifo a cui si perdivano i capelli. Allora le epidemie c'erano, c'erano le epidemie soprattutto quelle che travagliavano nel mondo agricolo, ci sono delle epidemie agricole. Pensate alla filossera, dove sparirono tutti i vigneti e furono reimpiantati, danni di miliardi, famiglie alla fame che dovessero emigrare in America. Pensate, ecco una riflessione, pensate alle epidemie bovine, l'afta epizotica. Io mi ricordo ancora, fino agli anni 60, e chi ha gli occhi e la memoria deve ricordare, c'erano dei cartelli, certe zone erano interdette, non si facevano i mercati, perché c'era l'epidemia delle bestie bovine, l'afta epizotica, l'epidemia delle galline, la coccidiosi, e portò la fame intere regioni, anche l'Italia, anche nostra. L'ultima epidemia che si ricorda, che mi ricordo fu l'asiatica degli anni 50, era un'epidemia come l'attuale, prendeva gli anziani e colpiva le vie respiratorie, come si diceva allora. Ma allora non si fecero statistiche, ma in Italia ci furono molti morti. Ma oggi andiamo indietro, 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 andiamo nella Prima Guerra Mondiale, una guerra che noi abbiamo dimenticato, ma qui al centro Girotti abbiamo tutta la documentazione. Qui ci sono i nomi dei caduti nella Prima Guerra Mondiale, 15-18. Se uno annusa e va dentro, vede che i caduti del 17-18 sono quasi tutti per malattia. Che significa? Che i combattimenti c'erano, e alcuni sono morti in combattimento, ma giovani, 19-20 anni, ecco, la maggior parte per malattia, per malattia. Significa che c'era un'epidemia che era stata individuata. Ci sono molte storie che raccontano questa epidemia. La più accreditata fu che l'intervento degli americani nella guerra europea, verso il 1916, entrarono sempre dopo, il primo contingente che inviarono furono Marines che avevano partecipato alla conquista di Cuba. Quindi avevano una sottile influenza respiratoria che avevano contratto a Cuba. Ecco perché, seconda degli studiore, si chiama Spagnola. E la Spagnola dilagò su tutti i fronti, non guardò austriaci, russi, italiani, dilagò su tutti i fronti e dilagò in tutto il mondo. Pensate che l'epidemia di febbre spagnola, secondo le ultime statistiche, causò 60 milioni di euro. Aiutata anche dai movimenti della guerra. Della guerra, ecco, la guerra. Si andava, i soldati si spostavano e quindi la portavano con sé nelle varie regioni, giusto? Sì, sicuramente ad Alba la portarono i militari, perché ad Alba era un centro ospedaliero, una retrovia della prima guerra, e c'erano militari austriaci che erano tenuti prigionieri la scuola enologica, prigionieri ungheresi che erano assieme accanto alla scuola enologica, pensate, la scuola enologica, prigione e ospedale dei soldati austriati. E l'ospedale di Alba che era tutto fasciato di Croce Rosse, dove c'erano i militari italiani e americani. Ma qui c'è una piccola golosità storica, perché la storia se la si guarda dall'alto alle volte a noi. Una piccola golosità, e ringrazio l'amico Armando Gambera della rivista Agora, che ha pubblicato sul giugno 2020, pensate come perciò, finita la guerra la spagnola metteva vittime. È una radiografia, un'analisi di cosa? La spagnola fece in un piccolo comune, la Morra, dove la signora Donatella Biffigi fa una ricerca e racconta com'era la spagnola nel 18. Maria Angela Fruglia, prima di ammalarsi, colpiva generalmente le persone nel pieno della giovinezza, la variante colpiva le persone nel pieno giovinezza, dai 15 ai 30 anni. E per mia fortuna io mi ammalai proprio all'inizio dell'epidemia, quando i germi ancora non erano nella loro potenza. Qui era nel 17, pensate. Quindi anche alla Morra ci sono segni che questa Maria Angela contrasse il virus, il morbo della spagnola. E poi parlò, ecco un'altra bella, bella della storia. Il medico condotto, uno del paese, si trascinava da una casa all'altra in pantofoli, perché non riusciva più a infilarsi le scarpe nelle sue estremità indolenzite dalla fatica. Pensate, il medico condotto, che bella figura. Uno dopo l'altro si ammalarono i dipendenti dell'albergo. Allora c'era la cura dell'UA, perché era solo guaiper, era la cura dell'UA, però anche l'albergo chiuse. La guerra si profilava ormai vittoriosa. L'esercito aveva riguadagnato le posizioni iniziali, ma si avvicinava la notizia della nostra vittoria e si faceva evidente l'avanzare del morbo. Quindi anche in un paese piccolo ci fu chi vide le conseguenze della spagnola. E il medico condotto che si tazionava in pantofoli non andava più a dormire. E quindi fu veramente una cosa indescrivibile. Posso dirvi che dalle memorie consultate i comuni emanarono un decreto. Il primo decreto non si facevano più sepolture. Cioè i morti, qui che entrasse la spagnola, fu seppellito senza comunicazione alla sverta, come si dice. Gli unici segni di tombe dove si è certi che quei defunti, quei tumuli, sono di persone che sono morte per la spagnola, ad Alba è nel Campo Santo, che io chiamo dei ricchi, che ormai viene cambiato Campo Santo Vecchio, dove ci sono delle tombe, se si legge bene, colpito da morbo crudele. E soprattutto cosa fa identificare che è morto di spagnola all'età, generalmente 18-19-20 anni. Pensate che dramma si visse per la spagnola. Quindi in tutto il mondo. E' strano. E poi il morbo, la signora racconta che il morbo si estinse, si estinse. E fu così veramente. Ci furono morti, ci furono creati il nuovo ospedale, ci furono lockdown, come si dice oggi, ci furono proibite fiere, tutto come oggi. Però poi il morbo si estingue, perché uccise 60 milioni di persone e il genere umano uscì fortificato da questa battaglia. Cosa si può considerare? Si può considerare che di tutti i periodi storici bisogna ricordare il bello e il periodo di sofferenza. E bisogna ricordare che la vita continua e soprattutto Anna Rosso era giovane, aveva il fidanzato. Non guardò nessuno andò a soccorrere i feriti. E c'è una piccola storia d'amore. Ecco, raccontala. Ecco. Sempre in questo giornale La Gorà troviamo raccontato da Armando Gambera la storia di Candida Giavelli. Anche Candida era una ragazza molto giovane, 18 anni, che per andare a trovare il fidanzato che si trovava a Torino sfida il morbo contro la volontà e il parere della famiglia che appunto la invitava a proteggersi, non andare a Torino dove ovviamente i contagi erano più alti perché c'era più popolazione. Lei andò lo stesso e si ammalò e leggiamo che in soli quattro giorni questo morbo crudele rapì la cara appena diciottenne. Quindi appunto un morbo che colpisce i giovani del fiore dell'età. Tronca una generazione in qualche modo. Morirono tantissimi giovani e ci trovavamo proprio nel pieno della guerra mondiale e quindi alle vittime del conflitto si aggiunsero queste vittime appunto dell'epidemia. Ecco, per dare dei numeri consideriamo questo che in provincia di Cuneo 500.000 abitanti allora alba 14.000 morirono 17.000 persone prima guerra mondiale. aggiungendo quelli di Spagnola arriviamo a 18-19.000 persone morte in 5 anni non di morte naturale ma di guerra e di epidemia. Pensate quanta vitalità al genere umano. Finita la guerra rifiorì la vita finita la Spagnola rifiorì la vita si costruirono entri i quartieri io penso ad alba il quartiere Piave il quartiere Moretta tutti costruiti dopo la guerra e l'epidemia quindi significa che dobbiamo essere pronti a ripartire con spirito nuovo ma pronti a ripartire. Ecco questo è un bellissimo messaggio che tu lanci Renato vediamo quindi appuntamento la prossima settimana per una nuova pillola di Memoria con Renato Vai ciao a tutti grazie grazie